Con lo slogan partiamo da Basso, il candidato sindaco della città di Salerno della lista Movimentiamoci Insieme, Maurizio Basso, punta in alto per dare un nuovo impulso a cambiamento dell'amministrazione del comune capoluogo. 50 anni di professione agente immobiliare, Basso è stato tra i primi candidati a scendere in campo e oggi si appresta anche a chiudere la lista dei candidati. E mentre si attende la data ufficiale delle elezioni amministrative, si completa nel dettaglio il programma elettorale, dando priorità allo sport e alla cultura per continuare con il turismo. Salerno possiamo dire che è una città di mare senza mare, ha ribadito Maurizio Basso ai nostri microfoni, sottolineando la necessità di prestare attenzione ai più fragili, con in primis le persone con disabilità. Contraddittorio parlare di spiagge libere quando poi l'accesso è impedito proprio alle persone che hanno difficoltà di ambulare e nella maggior parte dei casi per raggiungere le spiagge ci sono scalinate senza scivoli, incompleta assenza di abbattimento delle barriere architettoniche. Partiamo da Basso è uno slogan che ha creato il mio elettorato, i miei amici e chi mi sostiene in questa avventura, il gruppo che stiamo lavorando per questa campagna elettorale. Ormai, come ho detto sempre e ripeto, meno male che sono sceso in campo ad agosto perché mi ha dato la possibilità di conoscere bene questa amministrazione, quello che aveva fatto e quello che non aveva fatto e in più ho avuto molto tempo per farmi conoscere. Tanto è vero che ad oggi la nostra lista civica la potremmo anche già chiudere, se a brevissimo possiamo chiudere. Attendiamo solo la data delle elezioni, quindi con ansia l'ufficialità di questa data per poi espletare tutte le pratiche amministrative che si devono fare per la presentazione della lista. Il nostro programma ormai ne abbiamo già parlato, i punti cardini sono lo sport e la cultura per continuare il turismo, perché io dico sempre che Salerno è una città di mare ma senza mare, anche se oggi abbiamo visto che ci sono le spiagge allargate dove c'è stata tanta polemica, non voglio parlare del mare che non è pulito perché ormai lo sanno tutti, quindi non voglio entrare nella polemica e poi nel nostro programma che non so se molte volte l'abbiamo detto e lo voglio ripetere con forza, andremo a fare una ricognizione su tutto il territorio salernitano per dare la possibilità alle persone disabili e abbatteremo tutte o meglio tutte quelle barriere che si possono abbattere, quanto più possibile possiamo abbattere queste barriere, perché si parla di città europea ma di europea non c'è proprio nulla. Lei diceva non a caso si parla di città di mare, una città però che del mare non sfrutta una grande risorsa, sono proprio di ieri alcune immagini, alcuni tratti del litorale dove c'erano delle grosse chiazze di cui si disconosce la natura, una città di mare dove però non è per tutti perché non tutte le spiagge sono si libere ma non sono accessibili ai disabili. Guarda questo mi ha dato proprio un assist, non volevo spingere sempre sulle spiagge perché poi mi sembra è diventato veramente una polemica molto grande, mi sono arrivate molte di quelle immagini per quanto riguarda a livello l'acqua sporca delle chiazze ma questo diciamo che salerno anche prima del ripascimento c'erano queste chiazze. I disabili mi sono fatto un giro su tutto il litorale, ho visto forse all'altezza se non vado errato dove sta più o meno all'inizio di Mercatello c'è una rampa di disabili ma è molto molto limitato, cioè una persona che vive nelle zone e vuole scendere a mare non può scendere manco sulla spiaggia, deve essere aiutata veramente con una grande forza e questo è una parte del nostro programma che va proprio uno dei primi punti che andremo a lavorare quando saremo a consiglio.